Con una FIAIP la federazione ha messo in campo un iter procedurale comune che codifica e esplicita una metodologia professionale di analisi di informazione, con i mobili certificati, gestione della trattativa a tutela del cliente, che colma anche il vuoto normativo su come svolgere l'attività. Ci può spiegare meglio questa metodologia? Quali sono i vantaggi per l'agente immobiliare a utilizzare questa nuova metodologia di lavoro? Una FIAIP è un metodo comune di lavorare. Se questo viene ovviamente condiviso dall'intera federazione o comunque dalla categoria degli agenti immobiliari, significa immettere sul mercato degli immobili che sono vendibili e condivisibili. Sostanzialmente la condivisione è forse il punto focale, che è quello che in questo momento di mercato, dove è un mercato che ovviamente soffre, la possibilità di avere la certezza di poter dare l'opportunità ad un acquirente di trovare un immobile già certificato preventivamente, indipendentemente dal territorio o dall'agente immobiliare che ne soffruisce, perché è una FIAIP. Ecco, parliamo invece di REFIAIP, il nuovo progetto della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, che nasce dalla necessità di affrontare i profondi cambiamenti del mercato, che negli ultimi anni hanno interessato il settore. Ecco, come si posiziona sul mercato la nuova società e quali sono i servizi innovativi che offre ai propri clienti? REFIAIP è l'agenzia immobiliare nazionale di proprietà del 100% della nostra federazione e vuole sostanzialmente immettere sul mercato dei servizi altamente professionali. La piattaforma servirà e serve ovviamente alla gestione di qualunque tipo di immobile, di grossi enti, ovviamente, da pubblica amministrazione, ai fondi di investimento, agli NPL, alle cartolarizzazioni o a tutte quelle società che avranno l'esigenza di avere un servizio altamente professionale attraverso una rete di condivisione e di opportunità di vendita su tutto il territorio nazionale in tempo reale attraverso una piattaforma digitale. Grazie.